Ciao a tutti! Oggi voglio mostrarvi come pulire le Beauty Blender che se usate quotidianamente andrebbero pulite almeno una volta a settimana. Come prima cosa riempio una ciotola che può essere utilizzata nel microonde con dell'acqua tiepida. Aggiungo qualche goccia di shampoo delicato ma potete usare anche del sapone dal pH neutro e dopo aver messo le spugnette nella ciotola vado a sterilizzarle così da uccidere eventuali batteri utilizzando il microonde per un minuto. Grazie a tutti! Infine le lascio su un asciugamano, meglio se in microfibra, finché non saranno asciutte del tutto. Questo video è finito, io spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio. Ciao! Ciao!